Musica Ben trovati, appuntamento speciale con Smart Talk, ci troviamo a Rivi Sondoli, un appuntamento speciale perché abbiamo due ospiti speciali, Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, buonasera e bentrovato Presidente. E poi abbiamo un ospite che ci è venuto a trovare a Castellisangro per presentare il suo libro, Il prezzo del futuro, Alan Friedman. Ciao Alan. Ciao a tutti. Allora, io comincerei al contrario perché di solito per presentare un libro dovremmo farlo con l'autore, però ha un titolo talmente speciale il libro di Alan Friedman, soprattutto in questo contesto storico, economico e sociale, che preferirei che fosse lei Presidente a parlare del prezzo del futuro. Noi stiamo pagando un prezzo altissimo per avvicinarci al futuro, per proiettarci verso il futuro. Ma sai, il titolo è pertinente e quindi Friedman ha avuto una grande lucidità nel trovare il titolo più corretto e più giusto perché di solito i titoli, se non sono dei copiline, non trovano nemmeno un seguito nelle vendite, mentre invece questo è un libro che secondo me avrà un successo clamoroso. Sai, a me mi hanno sempre dato del visionario, non perché avessi le visioni, ma perché riuscivo a prevedere il futuro. E più o meno quello che io prevedevo si è sempre avvenuto perché il cinema è una grandissima scuola dove praticamente tu abbracci tutto per poterlo raccontare e creare questo ponte che ti unisce agli spettatori. Allora, sai, il nostro futuro è un futuro un po' che si è complicato per la stupidità di noi europei, perché in realtà noi non siamo degli europei. Noi siamo divisi tra eredi degli ostrogoti, visicoti, franchi e poi ci sono gli anglosassoni che si sono sentiti sempre superiori, no? Poi i francesi sono venuti un po' a ruota. Allora, il discorso qual è? Che non esiste questa unitarietà europea, perché noi facciamo finta di essere l'Europa, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di creare gli Stati Uniti d'Europa. E non è mai troppo tardi, perché se noi oggi come oggi mettessimo insieme i cinque paesi fondamentali, le teste di serie, quindi l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, la Germania e l'Italia, noi saremmo circa 300 milioni di europei, ma dovremmo fare un'unica Costituzione, un'unica moneta, un'unica lingua e un unico organico politico on command. E allora uno dovrebbe domandarsi, ma scusatemi, quando la Germania, che aveva un carico pesante per la seconda guerra mondiale, però poi a un certo punto ha fatto questo passo dell'abbattimento del muro di Berlino, trovandosi nei guai da un punto di vista dell'economia, ma gli europei già esistevano, già esisteva questa comunità europea, noi ci riunivamo a Bruxelles a fare cosa? A fare cosa? Cioè bisognava aiutare i signori tedeschi a rilassarsi e a entrare in un'economia di scala che doveva comprendere tutta l'Europa. Adesso loro si accorgono di non aver avuto la possibilità di investire in un esercito solo perché Putin è uscito di testa e ha dato di matto. Ma noi avevamo Putin, avevamo i cinesi che si sono comprati tutta l'Africa, cioè che pensavamo di essere indenni per sempre perché europei? Allora la prima cosa da fare è riunirsi e diventare un'entità politica vera, con tanto di confini ridisegnati, con tanto di esercito. Ma noi siamo stati cambiati di abolire il servizio militare. Ragazzi, ma la più grossa stupidità del mondo. Qualche settimana fa, intervistando proprio su questo, Alan Friedman, gli ho chiesto come sarà il futuro dell'Europa? E lui mi ha detto, sarà bellissimo, perché? Ho detto veramente che il problema con l'Europa, come Aurelio De Laurentiis nota, è che purtroppo si fa sempre un passo avanti e poi due passi indietro. E l'Europa della moneta unica per dieci anni era l'Europa dell'austerità. La solidarietà che abbiamo visto durante il Covid per me è promettente, ma non basta. E credo che l'invasione di Ucraina, di un dittatore sanguinaria che ha perso la testa, e che implica un cambiamento di paradigma permanente, perché non è che torniamo a avere pace e diventare amico di nuovo. Le cose cambiano per sempre. Questo può essere una guerra che dura anni, può essere un momento di guerra congelata, o di violenza a bassa densità. Nel tempo spero che gli europei riescano a capire che il futuro deve essere con la collaborazione fra di loro, perché se rimangono divisi, e purtroppo quando guardiamo l'energia, guardiamo i problemi, questo non è avvenuto finora. Il futuro può essere molto bello per l'Italia se riuscissi a sfruttare questi 220 miliardi di euro del PNRR, dei soldi che sono sul tavolo, ma per fare quello sarebbe necessario avere le riforme che vanno avanti per cinque anni. E per avere le riforme che vanno avanti per cinque anni, sarebbe necessario avere una classe politica all'altezza. Ecco, una classe politica all'altezza, però io credo che in questo momento siete soprattutto voi imprenditori, e noi cerchiamo di raccontarvi dal punto di vista delle scelte, a cercare di trovare delle soluzioni ad una congiuntura economica molto complicata, perché Alan giustamente ha già toccato uno dei tasti importanti. L'energia sta diventando l'elemento di rimente, un mondo che vivevamo prima rispetto al mondo che viviamo oggi. Lei, Presidente, ha detto che ha delle visioni in senso positivo. Ecco, qual è la sua ricetta in questa direzione? No, ma non è che c'è una ricetta specifica. Il problema è di saper fare, come diceva Friedman, non un passo avanti e due passi indietro, ma due passi indietro, ragionare, meditare sui propri errori e poi fare dieci passi avanti. Allora, vedi, qual è il problema? Che i nostri politici non sono degli economisti. Io perché ero molto contento che ci fosse Draghi al comando? Perché Draghi è il principe degli economisti e quindi aveva dato immediatamente una credibilità al nostro paese. Allora, il problema qual è? è quello di far capire ai cittadini che oggi i politici negli ultimi anni dove non si è andato a votare hanno fatto della res pubblica. Perché si chiama pubblica la res? Perché appartiene a noi cittadini, no? Se tu non vai a votare è come se tu aprissi la porta ai ladri perché entrano dentro casa e si rubano tutto. In altre parole, il cittadino ha un dovere di votare ed è una tragedia che 40% degli italiani proprio non votano. Saranno cinici, saranno rassegnati, avranno smesso di sognare, avranno visto troppi politici corrotti e incompetenti. Ma Aurelio De Laurentiis ha ragione. Ci vuole uno come Draghi competente perché la competenza conta. Lui non potrebbe avere una squadra vincente come Napoli se non avessi la competenza fra i giocatori. È lo stesso nell'economia. Se non hai un principio dell'economia come Draghi, se invece finisci con qualcuno irresponsabile, incompetente, qualcuno che pensa che la politica economica vuol dire le caramelle elettorali, un quota 100 qui, un reddito di cittadinanza là, allora finiremo male e avremo l'Europa che ci attacca invece di essere un'Italia che può farcela. Ecco, e poi se uno non esprime i suoi diritti, fa fatica anche ad avere i suoi privilegi nel momento in cui si lamentano. Io non posso lamentarmi quando poi non ho esercitato un diritto, è quello di andare a votare e scegliere qualcosa rispetto a quello che le elezioni mi permettono di fare. Ma vedi, noi siamo arrivati a un giro di boa, dove dobbiamo decidere che cosa, come dice Friedman, fare per il futuro. Allora non c'è dubbio alcuno che va cambiata la nostra Costituzione, non c'è dubbio alcuno che noi non possiamo più nasconderci dietro un dito il PD, la sinistra, di qua c'è la destra, poi c'è il centro. No, noi dobbiamo essere un tutt'uno. Allora, se per governare, io adesso dirò una cosa molto scomoda e me ne assumo tutta la responsabilità, noi dobbiamo rappresentare l'Italia intera. Allora, se l'Italia in parte è rappresentata dalla destra e in parte è rappresentata dalla sinistra, noi dobbiamo fare in modo che il prossimo governo, le prossime votazioni siano premianti per la Meloni da una parte e per il PD dall'altra. Cioè, voglio dire... Perché si stai presentando uno scenario completamente... No, uno scenario completamente... Da film. ...non accettabile dagli stolti. Vedi, cosa dice il signor Zucchero, che è un amico mio e che io stimo moltissimo, poi non lo dice solo lui, La madre degli stolti è sempre incinta e su questo problema e su questo diktat tutti hanno fondato il proprio successo. A carico di chi? Del povero cittadino, che non ha la cultura, la costanza e la capacità di decidere come farsi governare. Allora, se tu a un certo punto non capisci che devono vincere loro due, si devono mettere d'accordo, devono richiamare Draghi come nuovo, rinnovato Presidente del Consiglio, cambiare la Costituzione, farla diventare una Repubblica Presidenziale, regalare alla prima donna che da 30 anni costantemente fa la politica, che è la Meloni, diventasse lei Presidente di una Repubblica Presidenziale, e tutti vissero, ma ti rendi conto che questo è il nostro paese che ha avuto più governi al mondo? Me ne rendo conto, ti rendi conto che questo nostro paese è il paese dove c'è la mafia vera e la mafia di Stato, l'andrangheta nazionale e l'andrangheta internazionale, la camorra nazionale, la camorra internazionale, Oh, ma ragazzi, ma questo il bel paese impreda a tutti? E impreda a tutti, Alan, e impreda anche all'Unione Europea, perché l'Unione Europea e la BCE hanno già scritto il futuro di questo paese. Beh, la BCE in questo momento non ha un draghi, ha un politico francese mediocre, Christine Lagarde, che non è molto brava, che non è molto competente, e che ha combinato dei gaff uno dopo l'altro, cioè, in parole povere, se tu sei capo della Banca Centrale Europea e annunci prima noi non siamo qui a aiutare lo spread e poi schizza su lo spread, questo è un gaff. Se fai la seconda volta errore umano, perseverare diabolicum. Christine Lagarde ha detto l'altro giorno ma noi adesso non compriamo più titoli e i mercati finanziari sono andati in tilt. Due giorni dopo ha convocato una riunione di emergenza della BCE e ha tirato fuori un programma veramente disegnato per l'Italia, il cosiddetto TPI, che non è nient'altro che l'acquisto di titoli di nuovo. Quindi la credibilità della BCE è bassa. L'aumento dei tassi di interesse viene dalla pressione nordica. Non è la soluzione per l'inflazione che è spinto dai prezzi di energia che è spinto dalla guerra da Putin. Quindi abbiamo dei gravi problemi sia in Italia, come dice De Laurentiis, perché la classe politica non riuscirà purtroppo a mettersi insieme, era insieme per gli ultimi 17 mesi, era insieme con un leader prestigioso. Draghi e l'Italia era il paese, il leader più influente in Europa perché il cancelliere Scholz in Germania è paralizzato. Il presidente della Francia è distratto dai suoi problemi a casa con le penne e melanchon. Boris Johnson è un buffone. E quindi c'era Draghi e c'era l'Italia prestigioso. In California la settimana scorsa parlavo con alcuni amici, grandi CEO di azienda, e mi hanno detto che succede in Italia, Alan. Per la prima volta hanno avuto un grande economista come capo dello Stato con un governo di un'internazionale e l'hanno buttato giù. Non sapevo come spiegarlo. E sai qual è la cosa che fa specie, presidente? Che l'hanno buttato giù il giorno in cui sono riusciti a maturare il diritto alla pensione. Cioè questo fa... Cioè l'hanno calcolata al millimetro. Io ho fatto un articolo qualche giorno fa e qualcuno mi ha detto ti sei fatto un po' di amici a Roma. Che sensazione dà anche ai cittadini quello che stiamo vivendo. e poi voglio chiederle un'altra cosa perché lei è anche presidente di una delle squadre. Io sono tifosissimo del Napoli quindi non dovrei dirlo in questo momento per una questione oggettiva di par condicio. Però sono tifoso del Napoli essendo nato al Napoli ho vissuto... Ma Alan di quale squadra è? Oggi è tifoso del Napoli. Se io dicessi che oggi naturalmente il Napoli generalmente è baseball in America scusate. Baseball. Tant'è vero che prima mentre facevamo due chiacchiere a tavola diceva giustamente ma non mi fai troppe domande sul calcio perché non sono preparatissimo. Non sono bravo. Però il mondo del calcio Presidente sembra quasi che viva in un ambiente tutto suo che quello che avviene attorno tutto quello che stiamo raccontando anche oggi non lo tocchi. Forse la prima volta che è stato toccato in qualche modo è successo con la pandemia con la sospensione dei campionati. Ma vedi il mondo del calcio è un mondo cieco perché è meglio andare male sempre per la famosa frase il copiline la madre degli stolti è sempre incinta quindi essere parte di tutti vuol dire non essere contro nessuno ma se tu diventi una mosca bianca allora nel 96 tu devi sapere che Walter Veltroni è stato un allievo di mio padre allora Walter Veltroni ha l'intenzione di dire i club non sono più club ma sono società per azioni quindi con finalità lucrative un concetto che è stato poi reiterato dalla UEFA tramite Platini con il fair play finanziario grande errore di limitarlo solo a chi dovesse partecipare alle coppe europee mentre invece dovrebbero tutti aderire a questo concetto no allora qual è il problema che se ne sono un po' fregati tutti se ne sono un po' dimenticati di questo concetto allora se il calcio è passione se il calcio è appartenenza a questi colori a questa maglia che è la mia pelle dall'altro lato però è anche industria e allora se è industria non lo si può minimizzare non lo si può dimenticare e allora noi che cosa abbiamo fatto abbiamo lasciato anche lì alle istituzioni del calcio farla da padrona cioè la UEFA la FIFA le varie fede del calcio di tutto il mondo internazionali dovrebbero operare come dei segretariati al servizio dei singoli club mentre invece che cosa succede succede che sono loro a governare i deus no? il princeps noi siamo dei poveri feudatari e allora come no? ma scherzi mi viene in mente una domanda molto schierta molto onesta da profano mi spiega il De Laurentiis come mai la Juventus perde un sacco di soldi e Napoli guadagna? ma guardi questo lo dovrebbe domandare alla famiglia Agnelli e agli Elkan che ormai sono gli eredi on command ma il problema che il Napoli guadagna è una falsità perché francamente negli ultimi due anni a causa della pandemia adesso poi della recessione per la guerra e compagnia bella noi abbiamo perso 220 milioni non state guadagnando per cui ci stiamo leccando le ferite e probabilmente questo recupero di questa perdita la faremo in 4-5 anni quindi dobbiamo stare estremamente molto attenti ma proprio per questo io dico il mondo del calcio non sa autoamministrarsi autogestirsi perché noi facciamo il teatrino per gli altri cioè giochiamo giochiamo senza pause facciamo 52-60 se ne potessimo fare 100 di partite all'anno sarebbero tutti felici e contenti e noi come dei cretini ci prestiamo allora in realtà io perché devo fare la Champions League perché devo fare l'Europa League perché devo fare la Conference League perché l'Italia che ha vinto quattro mondiali deve contare nelle votazioni della UEFA un punto di voto un voto come la Repubblica di San Marino perché quello serve per fare adepti per essere rieletti e per rimanere on command il più a lungo possibile allora quando io dico signori ma perché ritorniamo ai cinque paesi più importanti quella per me è l'Europa i cinque paesi più importanti devono fare una competizione europea che prende il posto il martedì il mercoledì e il giovedì di queste altre competizioni farlocche e tutti non secondo un'estrazione con le palline che si sbagliano poi si correggono l'altro anno hanno fatto delle gaffe incredibili invece tutti devono giocare contro tutti ma lei personalmente era a favore o contraria a questo Super League che poi è falito ero contrario perché tu non puoi fare un super club di adepti di privilegiati che invitano gli altri tu democraticamente devi lasciare la porta aperta a tutti allora io ho stabilito i primi sei di queste cinque nazioni di solito cosa succede che partecipano quattro alla Champions League e due all'Europa League poi adesso si sono inventati questa stupidata della Conference League va bene allora a un certo punto uno dice fuori dalle scatole tutti quanti prendiamo le prime sei di ogni campionato nazionale francese inglese italiano spagnolo tedesco e mettiamo insieme questa compagine per fare un secondo campionato europeo in parallelo a quelli nazionali ovviamente i campionati nazionali non possono avere 20 squadre lei si rende conto che nell'86 noi eravamo 16 squadre poi improvvisamente siamo diventati 20 intanto lei deve eliminare la non omogeneità di valore delle squadre perché se io dice ma sai democraticamente tutti hanno diritto sì ma se mi arriva una squadra di una città di 20.000 abitanti allora che cosa c'ha? C'ha un mecenate se questo mecenate poi fallisce oppure muore che fa scompare allora tu devi essere credibile per la quantità di adepti di fans di supporter di tifosi che tu hai però scusa l'obbiazione ma cosa facciamo cosa diciamo di Castel di Sangro che è una cittadina di 5.000 ma che è una squadra di serie B non sta in serie B è stata in serie B poi è fallita sono profondo no no e poi è fallita vabbè smetto di parlare di Castel di Castel va benissimo no ma noi oggi siamo ospiti del sindaco di Castel di Sangro quindi non possiamo sparare a zero ma la cosa la cosa ma voglio dire scusami se tu prendi una squadra di un piccolo paesino e viene a giocare contro la Juventus che chance c'ha di poter arrivare fino in fondo quasi nessuna allora vuol dire che il campionato è falsato tu il campionato lo devi rendere il più credibile possibile perché se no tu allontani la gente poi si gioca in maniera sempre uguale no bisogna cambiare le regole anche perché i giovani si stanno abbandonando si annoiano è come quando andiamo sui mercati finanziari ci sono i listini di un certo tipo e ci sono quelli per le aziende più piccole però in questo contesto quindi per dirlo in poche parole Aurelio Di Laurentiis vuole ridurre lo spread tra le diverse squadre di calcio soprattutto in Italia per avere un campionato più omogeneo perché poi vediamo ci sono veramente delle squadre che vincono quattro partite in una stagione e ne perdono tutte le altre però torno da te torno un attimo al prezzo del futuro perché poi questo libro racconta non solo l'Europa racconta tutto quello che stiamo vivendo e tutti gli investimenti anche quelli del mondo del calcio sono fatti se tu credi nel futuro in che futuro dobbiamo credere in questo momento Alan? Innanzitutto dobbiamo credere in un futuro in cui c'è ripeto competenza a livello governativa se ci sono persone non competenti e non voglio offendere nessuno ma credo che è un dato di fatto che nel Parlamento che è stato eletto nel 2018 ci sono tanti per usare i termini tecnici scappati di casa e quindi il problema vero è la competenza più della destra o della sinistra è competenza capacità e devo forse anche un po' di responsabilità responsabilità sarebbe se tu hai un principe dell'economia con Mario Draghi e lo butti giù cioè io ho chiesto a Nando Pagnoncelli in questo libro il grande sondaggista ma secondo te Pagnoncelli la classe politica l'altezza per il dopo Draghi mi ha detto veramente la domanda è spagliata la domanda deve essere l'elettorato è l'altezza a scegliere un Parlamento capace però ci vogliono anche gli uomini presidente nella fase elettorale che rappresentano un elettorato capace nella scelta perché scusi se vado avanti nella domanda io credo che uomini importanti che hanno dimostrato nella vita nell'imprenditoria di ottenere risultati importanti debbono in questo momento un po' particolare perché noi facciamo una battuta scherziamo ma il momento è per certi versi anche drammatica sotto certi punti di vista secondo me persone che hanno saputo fare nella vita devono anche prendere in mano un pizzo di responsabilità nel portare avanti un paese come l'Italia sì questo è vero ma finché ripeto non si cambiano le possibilità di governare questo paese io credo che nessuno sia disponibile a metterci la faccia vedi il giornalismo che io rispetto invece di parlare di colpe dovrebbe indicare la strada del futuro allora quando io sento sempre accusare di sovranismo di qualunquismo ma dico ma spiantiamola vedi io prima ho detto mettiamo insieme PD e la signora Meloni sembra sembra un sacrilegio hai scritto un copione che è bellissimo è un copione di un film se fosse ma non è un copione di un film è un fatto tecnicale cioè tu per poter governare devi avere le due fazioni più importanti e più forti perché tu devi trovare se vedi nella vita esiste sempre io detesto i compromessi però parliamoci chiaro ci sono momenti in cui c'è la necessità poi di addivenire a un compromesso anche nella vita di tutti i giorni anche nella vita matrimoniale quante rinunce i due partner debbono fare per poter far sì che il matrimonio funzioni sopravviva funzioni e i cittadini sono come i figli di un matrimonio allora bisogna a un certo punto mettere da parte il proprio orgoglio bisogna cominciare a dire signore qui dobbiamo lavorare dalla mattina alla sera non possiamo vedi i sindaci ma ti pare che quando cambia il governo il sindaco tutto quello che doveva fare non lo può più fare perché il consiglio comunale gli si mette di traverso e andiamo avanti così con questa storia per cui dice sai Roma c'ha un dissesto finanziario di 10 miliardi Napoli c'ha un dissesto finanziario di 5 miliardi e per forza per forza tu prima hai citato uno strumento finanziario messo in piedi qualche giorno fa dalla BCE dell'Unione Europea che si chiama TPI ecco che sembra essere stato scritto apposta per l'Italia è andato via Draghi che era un po' anche una sorta di commissario di garanzia per l'Europa nei confronti d'Italia l'Europa dice senti se tu non fai i compiti a casa tu Italia io gli aiuti quegli acquisti di diritti di Stato di cui parlavamo prima non te li do e allora qui anche i politici definiamoli come ci pare di destra di sinistra scappati di casa o meno hanno necessità di fare delle scelte molto forti perché altrimenti addirittura le farà qualcun altro per noi certamente sì faccio notare soltanto che la competenza la signora Maloni è sicuramente coerente nella sua opposizione non era lei veramente che ha fatto cadere il governo era Giuseppe Conte con le sue gelosie e risentimento che ha iniziato il processo e poi era quel pranzo a Villa Grande in cui Silvio ha facilitato la caduta mettendosi insieme con Salvini e Maloni invece Presidente torniamo un pochino al colore delle emozioni quell'azzurro che contraddistingue il colore del Napoli che campionato pensa sarà questo perché poi è un campionato anche atipico sotto tanti punti di vista e quanto conta quello che sta succedendo rispetto ad un campionato di calcio lo hai detto te che è un campionato atipico perché è un campionato anomalo un campionato a singhiozzo dove all'epoca di Blatter si fece questa grossa stupidaggine di fare un accordo per il Qatar dove ovviamente per problemi climatici si doveva giocare per forza d'inverno tu hai mai visto un campionato che viene diviso in due piccoli campionati da mettere insieme non si è mai visto quindi è un qualche cosa che fa comodo a chi a chi fa comodo ai Qatarini perché perché bisognava ottenere delle licenze di costruzione di qualche cosa in qualche altro paese del mondo o di che cosa c'era bisogno tu lo sai che vedi il Qatar c'è il Paris Saint Germain il Paris Saint Germain si permette di pagare degli stipendi solo perché ogni minuto tira fuori quella cifra con il petrolio e allora sai quando io dico bisognerebbe bilanciare di più i campionati poi magari non vincono nulla perché fino adesso mi sembra che hanno vinto ben poco se non dei campionati nazionali dove sappiamo tutti che in Francia il campionato non è forte come in Spagna in Italia e Inghilterra quindi voglio dire il problema è un problema che mi dici che campionato sarà sarà un campionato probabilmente anacquato da queste problematiche e qui sarà un campionato probabilmente di super grande allenamento e poi ogni anno ce n'è una perché l'anno scorso ad esempio con la Coppa d'Africa anche quella metà stagione alcune squadre ma io di fatto ti ho detto ragazzi non mi parlate più di africani gli voglio bene ma o mi firmano una rinuncia a partecipare ai campionati della Coppa d'Africa o se no io tra la Coppa d'Africa i campionati in Sud America ma io non ce li ho mai a disposizione cioè noi siamo i fessacchiotti che pagano gli stipendi per mandarli in giro per gli altri ma non esiste Alan ti faccio un nome e un cognome e tu mi dici che sensazione ti dai in queste ore Nancy Pelosi Nancy Pelosi è il nostro speaker della Camera dei Deputati per chi non lo sa e lei sta commettendo un gravissimo errore in questo momento presentandosi in Taiwan in Taipei in una visita molto che provoca la rabbia della Cina e Joe Biden che per me è meglio di Trump perché almeno è goffo Biden ma almeno è ben intenzionato e onesto non dico che è un grande presidente Biden ma che Joe Biden attacca la Cina con questa aggressione questa retorica aggressiva che Joe Biden alza verso un escalation con la Cina che Nancy Pelosi va a visitare Taiwan è stupida è spagliata e in un momento in cui Vladimir Putin sta facendo guerra in Europa l'ultima cosa da fare è di poi aprire un altro fronte con la Cina ecco è un fronte dietro l'altro non entro nel merito però Nancy Pelosi io sono molto contento e felice di averla come ambasciatrice americana a Roma ma non è ma diventerà è una sua previsione non diventerà vedremo quanti anni ha 79 ecco presidente però a proposito di America c'è tanta America che sta venendo nel campionato di calcio italiano come mai secondo lei che effetto genera questo tipo di discorso nel campionato tante squadre di Serie B alcune squadre che erano sul punto di fallire perché secondo lei gli americani lei che vive l'America in maniera in maniera diretta stanno guardando ai campionati di casa nostra sai da un po' di tempo da un po' di anni vanno di moda i fondi i fondi di investimento sono quelli che devono far rendere agli investitori nei cinque anni successivi a un certo rendimento e quindi hanno visto che in Italia il calcio ha una grande possibilità e una grande opportunità e hanno deciso di investire perché così magari possono raddoppiare il loro investimento cedendo successivamente a qualche fondo che interverrà del resto Milan e Inter d'Oshet no? o no? assolutamente quindi voglio dire vedi io sono assillato dai fondi non ne posso più non ne posso più questa è bellissima allora nel 2017-18 mi hanno offerto gli americani 900 milioni di dollari per vendere il Napoli ho detto ma scusate allora non avete capito nulla io sono un imprenditore puro che si diverte a fare impresa non a fare presa allora lasciatemi giocare ancora io voglio fare il dodicesimo uomo in campo anzi il dodicesimo uomo in campo è il tifoso io faccio il tredicesimo anzi faccio il quattordicesimo perché il quattordici è il mio numero preferito vedi io sto a via 24 maggio dove sono nato il 24 maggio ma aveva detto stamattina una cosa che il 24 invece le aveva portato più fortuna poi beh perché il 24 maggio io sono nato il 24 maggio ecco perché aveva scelto il 24 per chiudere una battuta ciascuno il futuro ha un prezzo elevato in questa fase storica Alan tu l'hai raccontato con tanti aneddoti nel tuo libro ma tu come se dovessimo proiettarci da qui a 10 anni come lo vedi? io vedo in Italia un paese con enorme potenziale con tutte le carte in regola per veramente essere uno dei paesi dell'economia più importante in Europa e nel mondo e trovo che sia tragico che la durata media dei governi italiani è di 11 mesi negli ultimi 50 anni e quindi io vedo un futuro più positivo fra 10 anni che fra 2 o 3 anni perché dobbiamo passare questo periodo di guerra di emergenza energetica di inflazione che passeremo e ho un certo ottimismo per il medio termine perché l'Italia ha un grande numero di giovani 20 anni oggi di generazione Z e questi giovani di generazione Z a loro non importa se sei bianco o di colore hetero o gay nord o sud a loro interessa imparare l'inglese andare sui social capire l'economia digitale guardare all'estero guardare al futuro quindi la mia speranza per l'Italia e questo è nuova generazione e nel calcio presidente? ma tu sai che io vedo azzurro quindi nel calcio io mi auguro che quello che ha detto Friedman si avveri veramente perché noi abbiamo il dovere soprattutto di far crescere il paese attraverso l'educazione dei giovanissimi e l'unico modo per farlo poi è unificare il nord e il sud perché senza il sud il nord non sarebbe un qualcosa di prevalente allora io dico ci abbiamo il sud dobbiamo investire nel sud e dobbiamo creare quell'unità che fa piacere tanto ai politici vecchio stampo ma che non ha mai fruttato il quindi tu hai tante regioni in ogni regione c'è una ricchezza la stessa ricchezza dialettale io nelle scuole a parte l'unificazione di una lingua che farei inglese e italiano obbligatori per tutti è ridicolo che c'è gente che va che all'estero e non sa parlare nemmeno l'inglese quando la senti che parla in inglese diviene soltanto il mal di mare non diciamo va bene però farei studiare anche i dialetti perché nel dialetto tu riscontri quello che è il vulgo cioè la cultura del popolo la cultura che porta avanti quella grossa ricchezza che l'Italia ha rispetto a dei paesi molto più giovani perché gli Stati Uniti ci hanno pochi che ci hanno 250 anni quanti anni ci hanno? poco poco e noi ci abbiamo anni e anni di storia perché anche se siamo gli ereti degli ostrogoti dal 476 dalla caduta dell'impero romano è passato parecchio no? Che dici? Senta oggi lei mi ha detto una cosa mi ha detto che nel mondo da un'analisi della Nielsen ci sono 80 milioni di simpatizzanti 83 milioni di supporter del Napoli per simpatia come si capitalizza questo affetto? Si capitalizza soprattutto promettendogli di lavorare per loro con onestà rispettando come ti ho già detto la pelle del tifoso che è la maglia onorandola cercando di fare gli investimenti giusti e corretti perché a far saltare il banco non ci vuole nulla allora vedi il vantaggio che hanno i nostri tifosi è che io non ho mai giocato a calcio e quindi non voglio fare l'allenatore non voglio fare la punta non voglio fare il goalkeeper non voglio fare il difensore non voglio fare l'arbitro sto alla finestra a guardare in questi 18 anni io vengo dal basket in questi 18 anni con grande umiltà ho cercato di imparare qualcosa ho imparato però io faccio il mio mestiere l'allenatore fa il suo mestiere il direttore sportivo deve fare il suo mestiere tutti quanti abbiamo un ruolo importante c'è il nostro amico Nicola Lombardo Nicola Lombardo capo della comunicazione deve fare il suo mestiere ma questo del rispetto del tifoso che è al centro della nostra attenzione e per il quale noi lavoriamo e voi avete dei tifosi straordinari anche noi oggi naturalmente sì io avrei aggiunto una cosa che De Laurentiis ha dimenticato con 83 milioni di simpatizzanti nel mondo e quando io vado per esempio a visitare Malesia o Singapore o in sud est asiatico sono tifosi delle squadre italiane perché non vendete più merchandise perché vedi io sono un uomo pieno di difetti però c'è una grande qualità il coraggio e quindi a un certo punto l'altro anno in pieno covid in pieno caos in Cina dove tutti Nike Puma Adidas lavorano i propri prodotti dello sponsor tecnico io ho detto lo sponsor tecnico lo faccio io e a febbraio ho mandato a mare il vecchio contratto che avevo e mi sono cominciato a fare 470 items del brand manual da solo rimettendoci parecchi milioni di euro ma anche quella è una strada che ti deve dare qualche certezza qualche soddisfazione ho chiamato l'amico Armani che secondo me è il genio in assoluto di un'Italia che si auto rappresenta attraverso la bellezza lo stile l'immagine è il re allora ho detto Giorgio mi dai una mano per cortesia e lui mi ha dato una mano e quindi abbiamo cominciato questa collaborazione dove lui ed io siamo diventati in fondo gli sponsor tecnici del Napoli e poi sono talmente tante magliette che diventa anche entusiasmante invece di quattro l'altra ora abbiamo fatto i tredici per cui anche perché dopo una viene presa un'azzurra con un nome un coltivo sulle spalle ma perché è un percorso è un racconto ogni mese succede qualcosa di diverso che va interpretato e raccontato al tifoso Presidente lei un'ultima battuta prima ha detto una squadra di calcio come il Napoli rappresenta un patrimonio rappresenta un'azienda come si fa a dare un valore ad un'azienda che sia dei termini economici che sono rappresentati dai calciatori dagli asset però rappresenta anche tanta emozione secondo me ha un valore identitario quindi non definibili vedi un altro fondo mi ha offerto due miliardi e mezzo per dargli tutto adesso stiamo dando tutte le notizie possibili io ho detto ma signore ma io che devo fare devo andare in pensione ma pensa che noia volete far contenta mia moglie che avrebbe più a disposizione quest'uomo quasi sempre indisponibile che lavora all'età di 73 anni 20 ore al giorno ma io mi diverto quando mi dicono ma non vai mai in vacanza ma io sono eternamente in vacanza perché faccio le cose che mi piacciono adesso pensa che devo fare questi 10 giorni di vacanza io sono disperato ma questo questo è il bello della vita che quando uno fa le cose che veramente piacciono alla fine ottiene sempre dei risultati straordinari Alan io ti ringrazio per essere stato con noi tra poco ci trasferiamo a Castellisango dove presenteremo il tuo libro ringrazio il Presidente per averci dato l'opportunità di questa chiacchierata tra amici io ringrazio te e soprattutto Alan perché è un uomo diciamo dotato di una cultura internazionale e sempre obiettivo un po' conservativo perché ha paura di slanciarsi in spericolate così corse dove uno potrebbe farsi male però è comunque un grande raccontatore è un grande conoscitore di rapporti Italia Europa Italia e leggete il suo libro perché è veramente una finestra sul futuro che ci deve guidare ed insegnare dove dobbiamo andare a me dispiace vederla una volta all'anno dobbiamo trovare un punto di incontro anche durante il resto della stagione con Alan possiamo fare una cosa organizziamo una trasmissione da molto di tempo ci vediamo prima di Natale grazie arrivederci a tutti ciao ciao